La mia esperienza in nazionale è iniziata seguendo Roberto e avere l'onore, dopo tanti anni di esperienza all'estero, di ritornare in Italia, soprattutto con la nazionale italiana. Sono sempre stato tecnologico, sono anche strumenti che adoperiamo prima della partita proprio nelle ore che precedono l'evento sportivo o la finale perché li mandiamo ai nostri ragazzi e poi li guardiamo tutti insieme, quindi loro hanno le loro piattaforme, i vari rigoristi se dobbiamo preparare una finale o le punizioni, se dobbiamo affrontare una partita di qualificazione o una michele. L'esperienza più bella è stata quella dello studiare i rigoristi e preparare i segnali che dovevo mandare da lontano a Gigio durante le fasi finali dei rigori, quindi noi avevamo un codice che ci segnalavamo e gli ricordavo i rigori o quello che lui aveva deciso di fare con i rigori studiare. Mi ha stupito il fatto che avessimo vinto l'europeo e il nostro portiere Gigio non aveva ancora risultato, quindi era secondo me in una trans agonistica ed era veramente concentrato, è stata comunque una grande emozione, una grande soddisfazione soprattutto di aver aiutato e supportato i nostri ragazzi, i rigoristi, i portieri in questo risultato meraviglioso. Team System Team System Team System Team System